E emergenza ambientale, a rimettere il nodo di scariche abusive nell'Ipparino, sotto i riflettori alcuni esponenti della società civile della città di Vittoria, Andrea Dell'Ai, Cirino Strano, Davide Guastella e Nuccia Fontane, insieme a Raffaele Carmiliano, sottolineano come a loro parere le misure messe in atto dall'amministrazione comunale non siano bastate per contrastare il fenomeno e limitare l'inquinamento ambientale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. lanciano delle proposte per risollevare le sorti del territorio, tra queste l'attivazione di un nucleo ambientale di polizia municipale, una mappatura delle discariche e l'attivazione di un sistema di videosorveglianza nei siti più a rischio. Il problema ha raggiunto ormai i livelli dell'emergenza ambientale perché il territorio di Vittoria e le campagne sono contaminate da rifiuti di ogni tipo, soprattutto Eternit. Di chi è la responsabilità? Intanto della gente che sporca. Cominciamo a definire queste persone con il loro nome. Sono degli animali che pensano oggi ancora di poter andare in campagna a buttare rifiuti di ogni tipo. E poi abbiamo una responsabilità che è dell'amministrazione, che fino ad oggi ha affrontato il problema in maniera timida. Le varie misure portate avanti si sono dimostrate infatti insufficienti e inefficaci. La dimostrazione è l'immondizia che abbiamo. Quindi da dove partire? Come ripartire? Intanto è fondamentale attivare o potenziare un nucleo ambientale di polizia municipale, finalizzato al controllo del territorio. Altra cosa da fare fondamentale, fare una mappatura delle discariche, è istituire la videosorveglianza, almeno nei siti più a rischio, con dei sistemi Wi-Fi. Oggi una telecamera costa anche 300 euro, con schede GSM, quindi i costi non sono esorbitanti. Una volta che tu vai a fare controlli con la polizia e la videosorveglianza, andiamo a colpire in flagranza i trasgressori, che poi ovviamente dovranno essere sanzionati pesantemente.